Benvenuti in un nuovo episodio di Wigalastrol, dove andiamo a vedere qualche progetto di crowdfunding in scadenza su Wiga. Partiamo con Canvas, che in linea di massima è un gioco competitivo a punti da 1 a 5 giocatori, dove ciascun giocatore dovrà realizzare i dipinti migliori. Il gioco ruota completamente intorno al tema artistico e perciò a livello di componenti è stata messa parecchia attenzione sugli artwork, che sono tutti estremamente curati. Sicuramente oltre agli artwork, l'altra cosa che attira l'attenzione è la meccanica con cui creiamo i dipinti. Ogni dipinto è formato da una carta che fa da sfondo, più altre tre carte parzialmente trasparenti, che vengono messe sopra lo sfondo e ognuna andrà a definire un pezzo del quadro. Quindi effettivamente si andranno a creare dei quadri unici mescolando i vari elementi che li compongono. Come vengono valutati i quadri, le carte che andiamo a sovrapporre per creare un quadro riportano in basso varie icone, che andranno utilizzate per andare a completare una serie di obiettivi pubblici, scelti casualmente inizio partita, e che alla fine andranno a decretare il vincitore. Il gioco è molto basilare, come complessità possono giocarci un po' tutti, in pratica un filler, sia dal punto di vista della durata che della complessità. Il gioco su Wiga viene venduto a 55 euro nella versione base, a cui è possibile aggiungere varie espansioni. Come espansioni di gameplay troviamo Finishing Touches, venduto a 36 euro, che aggiunge nuove carte per creare più dipinti, poteri asimmetrici per i giocatori, e la meccanica delle cornici in cui possiamo infilare i dipinti creati per ottenere punti extra. L'altra espansione è Reflection, che viene venduta sempre a 36 euro, e contiene un nuovo tipo di carte trasparenti, che sono stampate fronte-retro e cambiano soggetto e punteggio in base a che lato viene giocato. Infine l'ultima espansione di gameplay è il Trilogy Booster Pack, viene venduto a circa 10 euro, e contiene una manciata di carte in più, sia come nuovi artisti, sia come nuovi obiettivi, sia come carte per comporre i dipinti. Poi sono presenti altre espansioni, ma non di gameplay, come i mini cavalletti su cui mettere i nostri quadri durante la partita, che vengono venduti a circa 13 euro, con la scatola Big Box per contenere tutti i componenti di gioco, venduta a 36. Il gioco base viene venduto a 127 euro, con le due espansioni Finishing Touches e Reflection, a 165 euro in versione all-in. Il gruppo d'acquisto chiuderà tra circa un giorno, nel momento in cui farà uscire il video, la consegna fissata per marzo 2025. Il gioco sarà solamente in inglese, ma la dipendenza dalla lingua è bassissima, praticamente nulla. Come gioco appunto molto semplice, non andiamo oltre il fillerino, che sicuramente attira più per il colpo d'occhio che per le meccaniche, ma se cercate proprio qualcosa bello da vedere, facile da spiegare in tavolare e con una durata molto limitata, sicuramente il gioco può rivelarsi piacevole. Il prossimo gioco che vediamo è Ironwood, ultimo gioco di Mind Clash Games. Metto le mani avanti e vi dico già che nonostante il gioco sia pubblicato da Mind Clash, i designer del gioco sono degli esordienti e complessivamente somiglia molto poco allo stile Mind Clash. Ma che gioco è? È uno skirmish da uno a due giocatori, dove ciascun giocatore controllerà una fazione completamente asimmetrica rispetto all'altra e ciascuna fazione avrà le sue meccaniche e i suoi modi per vincere. Diciamo che il gioco ricorda un po' il recente Dune e la guerra per Arrakis, ma con un sapore più da Eurogame. Il gioco meccanicamente è estremamente basilare. Nel gioco sono presenti solamente due fazioni e un'unica mappa cucita attorno alle meccaniche delle fazioni. Nella mappa sono presenti due territori, foreste e montagne. Una delle fazioni in armonia con la natura si muoverà solo per le foreste, l'altra più industrializzata si muoverà solo per le montagne. Le fazioni hanno varie unità che possono schierare per la mappa. La fazione della natura ha un unico tipo di unità base, mentre l'altra fazione ha qualche tipo di unità in più. Le fazioni vincono anche ovviamente in modo diverso. La fazione naturale deve liberare alcune aree montane per risolvere delle carte che ottiene inizio partita. Risolvendole potrebbe ottenere un totem e poi questo totem dovrà essere trasportato ai bordi della mappa. La fazione meccanizzata deve riuscire a costruire tre forge sulle montagne. Le forge sono una struttura che può essere costruita solo dalla fazione meccanizzata e che gli permetteranno durante la partita di ottenere risorse. Ogni fazione è anche differenziata ad un mazzo di carte che ne va a determinare le azioni. Ogni fazione ha sempre tre carte basi in mano che saranno disponibili a ogni turno, poi ne pescherà altre dal suo mazzo personale e le carte pescate avranno effetti più forti o più particolareggiati di quelli delle carte base. Una volta utilizzate quelle carte verranno scartate. Durante un round i giocatori potranno giocare fino a tre carte azione alternandosi tra loro. Ciascuna carta gli permetterà di far muovere le unità, schierarne di nuove e attaccare. Ad esempio nel caso della fazione meccanizzata anche costruire. Le carte hanno anche un altro scopo. Questo è uno di quei giochi che nei combattimenti quando si combatte i giocatori possono giocare una carta coperta dalla propria mano. Ciascuna carta indica un modificatore di difesa e attacco che vengono confrontati con quella dell'avversario. Ovviamente la difesa assorbe l'attacco avversario. I danni che passano corrispondono alle unità che verranno rimosse. Durante uno scontro si gioca solo una carta se tutte le unità di una parte vengono rimosse vince l'altra. Se rimangono delle unità si calcola la dominanza di ciascuna fazione in quel conflitto. La dominanza è data dell'unità rimasta in vita per ciascuna fazione sommata un valore di dominanza presente sulla carta che abbiamo giocato. Chi ha il valore più alto vince lo scontro e come sempre se a perdere il difensore dovrà ritirarsi in un territorio adiacente. In realtà il gioco è tutto qui. È molto semplice, molto immediato e l'abilità sta nell'utilizzare al meglio la propria fazione. Il prezzo del gioco su Wiga è 55 euro e non sono presenti add-on. La consegna è fissata per settembre 2024 quindi molto vicina e il gioco è solamente in inglese e qui c'è un po' di dipendenza dalla lingua dato che molte delle carte che utilizzeremo riportano del testo. Il Wiga per questo gioco rimarrà aperto per altri 9 giorni nel momento in cui farò uscire il video. Come gioco in separa è ben confezionato ma per niente innovativo, le meccaniche sono tutte già viste e non penso possa offrire particolare varietà o approcci diversi al gioco vista appunto la presenza di due sole fazioni con stile di gioco e modalità di vittoria impressi sopra e anche con una mappa cucita intorno alle due fazioni. Come tipo di gioco ricorda un po' Dune, la guerra per Arrakis, con un taglio molto più euro e un prezzo più contenuto. Personalmente dato che so un po' di già visto come gioco mi dice poco ma per quello che costa se si cerca uno skirmish da due giocatori dal taglio molto euro ci può stare. Un altro gioco al momento presente su Wiga è Flow. Si tratta di un sandbox per lo più competitivo dove uno ha quattro giocatori molto American e con uno stile grafico che ricorda Everdell. Il gioco è giocabile anche in modalità cooperativa utilizzando un'apposita espansione. I designer del gioco sono abbastanza famosi, troviamo infatti elementi dietro a giochi come Parks e Coloma e Endless Winter. Nel gioco ogni giocatore controllerà un personaggio asimmetrico che andrà a muovere per una landa ghiacciata partendo da un villaggio centrale, ogni personaggio essendo asimmetrico alle sue abilità uniche che potrà anche migliorare durante la partita. Ma oltre alle abilità ogni personaggio ha anche un famiglio anche questo asimmetrico rispetto agli altri e anche il famiglio avrà una sua miniatura che muoveremo per la mappa. Ovviamente parlando di un sandbox le varie aree della mappa sono un po' randomizzate e le dovremo scoprire esplorando. Ogni area offrirà varie interazioni che il nostro personaggio e il nostro famiglio potranno fare. Queste interazioni vanno dal semplice raccogliere risorse che potremo utilizzare in un secondo momento oppure possono essere esplorazioni di cave sotterranee dove potremo andare a combattere con nemici neutrali, explorare le cave sempre più in profondità e ottenere di volta in volta un bottino migliore. Una nota che faccio ora è che nel gioco il combattimento avviene solo contro i nemici neutrali. Non c'è un combattimento diretto tra giocatori e in generale direi che l'interazione tra giocatori è abbastanza bassa e non va oltre a rubarsi risorse sulla mappa prima degli altri. Poi comunque tornando alla mappa saranno presenti degli incontri che sono delle sorte di missioni secondarie, potremo trovare tesori o anche monumenti con cui interagire. Quello che lo distingue dagli altri sandbox è che solo una parte del gioco avviene sulla mappa, un'altra parte consistente del gioco avviene in quello che è il villaggio di partenza. Questo perché i nostri personaggi quando lasciano il villaggio hanno un livello di calore che si abbassa man mano che esplorano le lande ghiacciate e ogni tanto dovranno tornare al villaggio per ricaricarsi. Ma in realtà il villaggio serve anche a molto altro perché offrirà tutta una serie di luoghi in cui il nostro personaggio può andare per potenziarsi in moltissimi modi. Potremmo infatti spendere le risorse che abbiamo ottenuto in giro per la mappa per potenziarci in vari modi come ottenere nuovi oggetti, ottenere nuovi compagni, ottenere nuovi obiettivi segreti, svariati consumabili e così via. Un altro potenziamento è anche far salire di livello il personaggio e anche qui si diramano varie possibilità perché quando un personaggio sale di livello può potenziare la sua abilità personale o magari il suo famiglio, magari ancora aumentare la barra del calore per rimanere più a lungo all'esterno senza tornare al villaggio o per combattere nemici più forti dato che il calore rappresenta anche la salute di un personaggio o può magari aumentare il numero di dadi che tira in combattimento e così via. Mentre stando in città i personaggi possono fare anche un'azione che gli permetterà di costruire delle casette a fianco della propria plancia in una parte che assomiglia a un tableau building e che andrà a generare vari bonus sia passivi sia attivi quando visitiamo la città. Complessivamente il tutto serve a fare punti, alcuni dei modi per fare punti sono comuni a tutti i giocatori ma la maggior parte vengono degli obiettivi segreti che acquisiremo durante la partita e che ci chiederanno di concentrarci in una parte piuttosto che un'altra di quelle offerte dal sistema di gioco. Le varie parti del gioco prese a sé stanti sono tutte abbastanza semplici ma sono incastrate in modo molto articolato. Il gioco viene venduto 86€ nella versione base e 105€ nella versione deluxe. Entrambe le versioni contengono gli stretch goal ed hanno lo stesso contenuto di gameplay ma la versione deluxe ha qualche componente migliorato. A 140€ è presente un pledge che contiene la versione deluxe e un'espansione. Questa espansione mostra l'East e aggiunge due nuovi personaggi, 4 nemici che rappresentano dei boss e una serie di nuovi componenti che vanno ad arricchire il gioco per una maggiore varietà. L'espansione va ad aggiungere anche la modalità cooperativa. A 168€ è presente un altro pledge che ha tutto quello detto prima, più le bustine personalizzate per le carte, un upgrade dei componenti dove diversi token vengono rimpiazzati da miniature. Poi a 175€ c'è il pledge all-in che oltre a quanto detto prima contiene anche dei playmat per la plancia. Poi come addon a 20€ è possibile rimpiazzare i rimanenti token in cartone con le versioni in legno. La consegna è fissata per giugno 2025 e il gioco è solamente in inglese ma la dipendenza dalla lingua è veramente molto bassa. Il gioco al 90% utilizza simbologia. Il gruppo d'acquisto rimarrà aperto per circa altri 20 giorni nel momento in cui far uscire il video. Sul gioco in sé personalmente lo trovo molto carino, le meccaniche mi paiono parecchie ma molto ben amalgamate. Sembra siano presenti molte possibilità sia per quanto riguarda crescita e personalizzazione del personaggio sia per quanto riguarda le interazioni sulla mappa. Sembra sia presente anche una buona randomizzazione degli elementi di gioco che dovrebbero ottenere il tutto fresco. Come difetti trovo si sarebbe potuto fare qualcosa in più da un punto di vista della mappa che è formata da veramente poche tile e come dura e pura quantità di contenuto che va bene ma si poteva fare di più. Diciamo che gli stretch goal ma soprattutto l'espansione aiutano ma volendo prendere l'espansione il prezzo si alza considerevolmente. Personalmente a me il gioco è convinto e questo penso proprio che lo prenderò. Con questo per oggi ho concluso. Se avete domande o volete farmi sapere che ne pensate dei giochi scrivetemi pur nei commenti che vi leggo sempre molto volentieri. Detto ciò vi saluto e noi ci vediamo in un prossimo video.